Fa! Ma dove? C'è un pavone! Ma c'è un pavone! C'è un pavone! No! C'è un pavone! Dai! Ma qui! Pavone! Si, un pavone! Fa! Ah! Andai! Guardi c'è! Ma dove c'è? C'è un pavone! C'è un pavone! C'è un pavone con io! L'hai fregato eh! Andiamo! Fa! Fa! Ehm! Fa! Ehm! L'ultimo! Fa! Ma vaffanculo! Fa! 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 Ma vaffanculo! Fa! Ha! Ha! Fatta! Oh! Eh! Pigia 35! Come? Te l'ho fatta! Pigia 35! Cancellini! Troppi foni! Cancelletto! Troppi foni! Cancelletti! Troppi foni! Cancelletti! Quei hai troppi foni? È quello sotto sulla destra! Aveva riuscito al 936! Oh! Eh! Pigilo! Ma pigia io! Fa tutto io! Eh! Dai! Camiglia! Vai! Pigia il... Il carpello! Il carpello! Così si accende! No! È spento! Nel vedi! Pigia il carpello tritti pali! Vai! Cancelletto! 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 Scossi pini! Off! Ma va a fare il culo! Mi soffia per il culo! Arrivati? Oh! È arrivato il messaggio! Eh! Guarda un po'! T'ho ricaricato eh! Sì! Ma è un... Mani interno! Pigia... Allora! Scorza a fine! Scorza a fine X! Quei! Quello... Vedi in mezzo c'entra il vestito della giancione! Tu pigia quello! Il cinque! Cinque! Porri! Eh? Porri! Que'è il porro? Quello vedi sotto c'è forma di porro? Vai! Quello! Vai! Ma sotto c'è l'8! Porro! Porro! Pigia porro! Porro! Ma quei l'8! Che cazzo da pigiare? Allora pigia il 2! Sì! Adè il 2! 2! Treppiedi e 6! Quei treppiedi? Eh! E 6! Finale! Ma che è il treppiedi? Pigielo! Ma te lo sto dicendo ora! Se il pigi... Quando l'hai pigiato... Che dove sta il treppiedi? Treppiedi e 6! Allora vedi! Treppiedi e 6! Ma guarda! Occo! Guardate lì! Tutto questo è scritto! Che c'è scritto che lo... Allora! I cinque messaggi non sfonati sono appena prendibili! Quindi li puoi mettere! Lo voglio chiappare! No! Sono cinque messaggi sfonati! Prova! Fallo così no! Pigia! Rot! Rot! Ma quella è il Rot! Rotterdam dei pigiari! Sì! Rot! Il cani! Pigia Rotterdam! Ma mi dice che cazzo dobbiamo rotti! Ma non si va per terra! No! Ma la condensa può fare niente! Te lascio qua di co***o! Fammi il piacere! Allora! 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 Fallo! Sono davanti a tutti così! Questi si stavano a concentrare stamattina! Cioè veramente! Questa è da VAR! Eh! Questa c'è! Con te! Ammunizione! Ammunizione! Dai! Ti hanno visto tutti! Anche il parastinco di Santubaldo! Io la metto!